Sto registrando, ma devo chiudere la porta dello studio, altrimenti rischio di farvi vedere tutto. Dove eravamo rimasti, prendiamo la sedia e scorriamo! Ale! Ale! Ho fatto un incidente. Cari vichinghi, come potete vedere ho portato la mia poltrona comodissima direttamente a casa mia. Questa qui, come ricorderete, ce l'avevo nella mia vecchia camera quando abitavo con i nonni. Spostiamoci in cucina. Mi piace la mia maglia super fluo? Il mio outfit di oggi è veramente particolare. D'altro onde ci stiamo avvicinando? All'estate e quindi ho deciso di mettere delle magliette belle sgargianti. Questo coso che spruzza il profumo prima o poi mi farà venire un infarto. Adesso però vi mostro il pezzo forte della casa. Le mie nuove tappinelle estive. Sì, con le calze. Però dai, sono belle e almeno prendono aria. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ma quanto sono orgoglioso di questo outfit moderno ragazzi. Mi sento un ragazzino, tutto yo, best, freestyle. Tralasciando che dietro c'è sempre la mia cucina. Non so se sentite un piccolo rumorino ma guardate. Il mio amico, il mio miglior amico, ventilatore. Così non sudo, non sento caldo e non mi si pezzano le ascelle. Non scherzavo, quelle si pezzeranno sempre a prescindere. Cari vichinghi, oggi faremo una cosa incredibile. Perché visto che in questo periodo di virus si è parlato tanto, ti devi lavare le mani, mi raccomando. Per evitare di contagiare cose varie faremo le saponette dei vichinghi. Ma forse lo sapete che i vichinghi in realtà non si lavavano proprio. Erano un popolo veramente sporco. Ma noi siamo vichinghi moderni e quindi ci laveremo le mani e lo faremo con le nostre saponette dei vichinghi che faremo tutti insieme. Prima di iniziare però mi raccomando spolliciate come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere anche voi dei veri vichinghi al 100%. Perché per essere un vero vichingo è impossibile non essere iscritto al canale. Tutto l'occorrente, tutto quello che ci servirà, questo sarà un video molto interessante ma soprattutto molto creativo. Infatti dopo un bel po' di tempo sul nostro canale tornano i video dove facciamo qualcosa. Ma mi stava per cadere tutto quindi devo stare attento. Volevo presentarvi questa cosa qui. In poche parole in questo contenitore abbiamo un chilo di sapone neutro. Neutro significa che non ha appunto un sapore, un odore e cose varie. Questa base per sapone l'ho comprata tantissimi mesi fa. Ma siccome l'avevo completamente dimenticata, l'altra volta mi è capitata tra le mani e ho detto ma come mai non ci faccio un video? Guardate! Non sa di niente. Per fare queste saponette dei vichinghi ovviamente dobbiamo farle profumare. E per farle profumare abbiamo bisogno di queste cosine qui che ho comprato qualche giorno fa. Questi sono oli essenziali. Togliamo il cartoncino. Guardate qua ragazzi sono delle bottigliette profumate con degli oli che fondamentalmente si utilizzano per fare i profumi, i cosmetici, tantissime cose. Infatti non vi nego che hanno veramente un odore stupendo. No però sto coso lo devo staccare ragazzi. Non può essere. Lo capisco che anche tu fai odore e che ogni tanto mi vuoi chiamare dicendomi... Anche voi ce l'avete a casa sto profumatore che ogni tot di minuti spruzza? Rosmarino ragazzi io adoro il rosmarino. Guardate vi faccio vedere un po' se mette a fuoco. Eccola qui. Dovete stare attenti perché questi in realtà non sono facili da utilizzare. Sono oli essenziali puri al 100%. Questo significa che se messi a contatto con la pelle possono essere molto dannosi. Quindi se fate una cosa del genere mi raccomando o con mamma o con papà. Una cosa di cui abbiamo bisogno di cui non possiamo fare a meno ovvero gli stampini. Eccoli qua. Abbiamo questi che sono appunto stampini alla frutta. Guardate qui abbiamo aspetta che è l'uva, la mela, soltanto sfere. E poi abbiamo questi che servono per fare i pasticcini. Guardate sono più di uno. Eccoli qua. Sono chiaramente tutti in silicone perché servono degli stampini in silicone. È molto importante perché ovviamente poi dobbiamo staccarli con semplicità. E questi sono adatti per fare questo tipo di lavori. Sicuramente le mamme ne sanno più di me. Un'altra cosa che chiaramente ci serve se vogliamo rendere belle le nostre saponette sono queste cosine qui. Guardate sono coloranti alimentari. Io ho preso il blu, il rosso e il giallo. Con queste qui daremo una forma estetica molto bella. Questo qui. Per far sciogliere il nostro sapone neutro. Perché ovviamente questo adesso lo dobbiamo tagliare e lo dobbiamo sciogliere. Tagliamo qui dei cubettoni. Se volete sapere dove l'ho acquistato chiaramente su Amazon ne trovate tanti tipi. Prendiamo il nostro cucchiaio. Ecco fatto e lo stacchiamo. Guardate come salta via in questo modo. Eccolo qua. Questo è sapone. Cioè potrei già lavarmi le mani con questo ma lo voglio profumato. Altrimenti non c'è gusto. Guardate che spettacolo. Ragazzi credo che così possa bastare. Adesso però ci dobbiamo spostare ai fornelli. Abbiamo messo tutto il nostro composto qui all'interno del nostro pentolino. Adesso accendiamo. Aspetta. Mettiamo fiamma bassissima. Bassa bassa bassa. Ecco va bene così. E adesso mettiamo il nostro pentolino a scaldare. Fino a quando il nostro sapone non si scioglierà per bene. Girate sempre in questo modo. Guardate la parte laterale come si è sciolta. Cioè è pazzesco ragazzi. Guardate. Lo facciamo finire di sciogliere. Allora questo è il risultato finale del nostro composto. Aspetta che accendo un attimo la luce. È un composto molto liscio adesso. E questo è il nostro sapone liquido. Adesso ragazzi ci spostiamo al tavolo. E facciamo veramente le saponette più belle del mondo. Per evitare di fare tante porzioni. Andiamo a mettere un po' di colorante blu. Direttamente qui dentro. Guardate. Così qualche gocciolina. Il colorante giallo. Così vediamo di dare una tonalità verde. Mischiamo così per bene. Guardate come cambia colore all'interno. Già comincia a diventare tutto magico ragazzi. Non per bantarmi ma guardate qua che composto. Guardate che colori ragazzi. Ho azzeccato quello che mi piace di più. Il verde mare. Guardate che meraviglia. E adesso aggiungiamo il bergamotto. Questo qui. E poi il rosmarino. Che è la mia spezia preferita. Mettiamo questi due. Vediamo cosa ne viene fuori ragazzi. Spero che venga un bel profumo. Qualche goccia. Uno. Due. Tre. Quattro. Aspetta ragazzi. Dovete stare attenti. Altrimenti se viene troppo forte potrebbe essere corrosivo. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dodici. Tredici. Tredici gocce. Vediamo se riesce a fare il profumo desiderato. Che spettacolo. Annusate. Annusate anche voi. Poi prendiamo il rosmarino. Apriamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Dieci. Tredici gocce più o meno. Va bene così. Ok ragazzi. L'aroma è veramente forte. Il colore mi piace perché è veramente bello. Guardate qua. Nel frattempo ai lati comincia ad asciugare. E questo non è un buon segno. Ok. Facciamo i nostri cupcake saponetta. Versiamo qui. Non so se si vede bene ragazzi. Perdonatemi. Ce l'abbiamo. Prendiamo la seconda ragazzi. Voilà. Guarda come scende. Ok. Che meraviglia. Ci blocchiamo così in questo modo. Ne mettiamo un pochino. Aggiungiamo un pizzico di rosso. In questo modo. È densissimo. Cioè. Veramente denso. Prendiamo uno stuzzicadenti. Che avevo qui già a portata di mano. E diamo una leggera. Ma proprio leggera. Miscelata. Andiamo a finire il composto. Diamo sempre una miscelata con i nostri colori. In questo modo. Volendo possiamo farlo anche con le altre. Aggiungiamo il giallo ragazzi. Il giallo qui. Una goccia qui. E poi una qui. E una qui. In questo modo. Prendiamo uno stuzzicadenti. E misceliamo. Guardate come si forma la patina sopra. Che è pazzesco ragazzi. Nemmeno qualche secondo. E già abbiamo una patina sopra. E aspettiamo. Che i nostri cupcake. Si asciughino. Anzi sapete cosa faccio ragazzi. Metto i nostri cupcake. Direttamente. In freezer. Così diventeranno solidi. Il prima possibile. Piano piano. Attenzione. Mi stava per scivolare. E quantomeno il freezer almeno si lava. Ok ragazzi. Come potete vedere. È ancora molliccio. Guardate. È gelatina. Si sta spaccando. Aspetta. Toglilo dalle mani Vito. Altrimenti siamo nei guai. Mettiamo anche il terzo. Ovviamente. Super attenzione. Anche quando fate questo. Perché qualcuno potrebbe scambiarli veramente per dei dolcetti. E potrebbe mangiarli. Rischiando veramente tanto. Vi faccio notare una cosa stranissima. A parte tutto il disastro che c'è qui. Perché ovviamente ragazzi. Sono in fase di sperimentazione. Ma guardate come si è asciugato tutto il nostro sapone. Veramente ci sta pochissimo. Dieci minuti. Guardate. E nemmeno si scolla più. Adesso ragazzi. Per fare le altre saponette. Bisognerà sciogliere nuovamente questo. E poi facciamo queste sfere qui. Perché comunque la frutta è troppo piccola. Ed effettivamente sarebbe sprecata come saponette ragazzi. Rischia di scivolare troppo tra le mani. Prendiamo queste che secondo me saranno molto belle da vedere. Adesso tra l'altro abbiamo anche il profumo. Quindi emana veramente un aroma. Che non vi dico. Stupendo. Ci portiamo con la nostra brodaglia. Prima che ci raffreddi. Lì al tavolo. Ok. Guardate che spettacolo. Poi andiamo all'altra. Ecco qua. Dai metti a fuoco videocamera. Che a questo momento non me lo posso perdere. Due. Poi abbiamo questa. La terza. Sembra cera per le candele. Guardate. La consistenza è simile. Dai dai scendi. C'è diventato nuovamente pietra. Eccoci qui. È passata una mezzoretta. Da quando abbiamo messo questi all'interno del freezer. E adesso sono belli solidi. Guardate qui. Andiamo a togliere il nostro silicone. Perché questi sono stampini in silicone. E guardate che spettacolo. Qui abbiamo la macchia di rosso. Che abbiamo messo prima. Quindi questa la appoggiamo qui. Che meraviglia. Anche se questa sembra un vulcano. Che sta per esplodere. Quelli erano più semplici da togliere. Ecco fatto. Vanno giù via. Guardate. Sembrano dei baci perugina. In versione saponetta. Guardate che spettacolo. Con questa splendida idea. Possiamo fare veramente dei regali stupendi. Per i compleanni. Regali natalici. Insomma possiamo fare veramente di tutto. Guardate che meraviglia. Vi faccio vedere il colore più da vicino. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Guardate che spettacolo. Sulle mani. Direttamente sulla mia pelle. Oh. Ah. Sapone. Ce l'eco. Apriamo. E ci laviamo le mani. Aspetta. Chiudi. Voglio provare per bere l'aroma. Date che meraviglia. Facciamo come Barbara D'Urso. Che fai tutorial. Mi ricordo che quando facevo il meccanico. E ci fu un periodo della mia vita in cui ho fatto anche quello. Facevo così. Guardate. Uno. E due. Questo era il mio modo di lavarmi le mani. Ma anche le braccia. Lavavo. Perché ovviamente quando vai a mettere le mani dentro la macchina. Mi sporchi anche le braccia. E poi infine. Risciacquate. Strizzate. Guardate che forte sta cosa. Mi ricordo che mia madre mi diceva sempre. Vito. Non bagnare per terra. E io puntualmente. Non lo fate a casa. Altrimenti le mamme si arrabbieranno tantissimo. Cari vichinghi. Spero che la mia idea vi possa servire in futuro. Ovviamente se avete delle domande. O se volete rimanere in contatto con me. Mi raccomando. Seguitemi su Instagram. Noi ci rivediamo in un prossimo video. E ciao. Wow. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Noi ci rivediamo in un prossimo video.